Dopo la vittoria in Gran Griglia Tritico Lombardo, cosa pensi che sia possibile oggi? Non lo so, oggi vediamo, è una grande gara, è speciale in agosto, caldo, più lungo e più dura anche la Sanremo, stiamo in ottima condizione e vediamo. Tu pensi che il nuovo ricorrido è meglio per te, per la prima edizione? Sì, penso che è meglio questa edizione per me e anche per altri corredori, vediamo, troviamo. Grazie. 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 Grazie.